Anna Maria Furlan, segretario della CISL, è arrivata in Abruzzo per discutere di welfare nella tre giorni intitolata Mettere in agenda il futuro organizzata dal patronato Inas della CISL. E proprio sul ruolo importante, svolto dai patronati come servizio ai cittadini, si è soffermata la Furlan, che ha richiamato il governo Renzi a non continuare a tagliare in questo settore. È un servizio che si offre ogni cittadino e ogni cittadina, davvero di alta qualità. Ogni anno però nelle finanziarie noi discutiamo di tagli al patronato. Credo che sia ora invece di fare un confronto serio su come anche qua introdurre elementi di innovazione e certificare la qualità. Parlando di welfare non si può non citare il tema pensioni, argomento caldo nell'ambito delle riforme. Proprio i sindacati sono scesi in piazza contro la legge Fornero, questa la posizione della CISL. Noi abbiamo detto al governo con chiarezza che vogliamo che già nella legge finanziaria ci siano significativi segnali di un cambio di rotta. In un paese dove oltre il 40% dei giovani è disoccupato, a questo sommiamo i tanti giovani che sono precari nel lavoro. È ovvio che non possiamo tenere inchiodati sui posti di lavoro fino a 66-67 anni lavoratori e lavoratrici. Poi uno sguardo all'Abruzzo per crescere, dice Anna Maria Furlan, così come nel resto d'Italia serve innovazione. Questa è una regione che nel tempo ha davvero accumulato anche modelli di eccellenza e bisogna puntare sull'innovazione, anche qua come in tutto il paese. Quindi gli investimenti sulla produzione, sulle infrastrutture, su innovazione, su ricerca, su formazione sono indispensabili per la crescita del paese e nel paese anche dell'Abruzzo.